bentornato sul canale in questo video parleremo dei superconduttori dell'effetto mesner e dell'importanza che ha la ricerca scientifica in questo ambito se tocchi il caricabatteria del tuo cellulare mentre in funzione oppure un alimentatore o un qualunque altro dispositivo elettronico noterai che mentre lavora si riscalda quel calore indesiderato è dovuto al passaggio di corrente elettrica che trasforma l'energia elettrica in energia termica quindi disperde l'energia la consuma inutilmente quindi ogni volta che c'è questo passaggio di corrente c'è su riscaldamento ed esso avviene anche nelle linee ad alta tensione che trasportano la corrente dalle centrali dove viene prodotta fino ai luoghi di utilizzo queste perdite possono essere ridotte trasportando la corrente ad alta tensione ma non possono mai essere eliminate infatti la potenza dispersa come abbiamo visto nella lezione 4 4 12 si calcola i alla seconda per r cioè corrente alla seconda per resistenza e quindi dato una certa corrente per annullare la potenza dissipata dovremmo avere una resistenza uguale a zero oggi più che mai la questione energetica riveste un ruolo centrale quindi se riuscissimo a ridurre o addirittura eliminare questa energia che viene sprecata perché trasformata in calore sarebbe una cosa importantissima un conduttore a resistenza nulla è stato osservato per la prima volta nel 1911 quando un fisico olandese il professor kamerling ons stava osservando la resistenza elettrica del mercurio al variare della temperatura in particolare a temperature molto basse raffreddando il campione di mercurio notò il familiare comportamento di dipendenza lineare tra temperatura e resistenza in particolare al diminuire della temperatura diminuiva la resistenza in modo lineare come possiamo osservare dai valori mostrati nella parte alta del grafico però continuando a raffreddare il campione di mercurio utilizzando dell'elio liquido quindi arrivando fino a una temperatura di 4,2 kelvin che equivalgono a circa meno 269 celsius quindi siamo a temperature estremamente basse notò che la resistenza del mercurio precipitò improvvisamente a zero questa temperatura è nota come temperatura critica del mercurio ed esso entra in una fase che è chiamata di superconduttività continuando con le ricerche si è scoperto che molti altri materiali entrano in una fase di superconduttività ma solo quando la temperatura si avvicina allo zero assoluto cioè scende sotto una temperatura critica sempre molto bassa l'obiettivo era quello di realizzare materiali che avessero una temperatura critica non troppo bassa in modo che fosse più facile da raggiungere ad esempio nel 1941 fu trovata una lega di nitruro di niobio che poteva diventare superconduttiva a 16 kelvin cioè meno 257 celsius stranamente molti materiali che sono dei buoni conduttori a temperature ordinarie come il rame l'argento l'oro non manifestano una superconduttività non diventano mai superconduttori sebbene le temperature per la transizione alla superconduttività stessero lentamente salendo erano ancora molto basse i costi per questi raffreddamenti molto elevati ma immaginate il risparmio energetico se le linee di trasmissione della corrente elettrica potessero essere rese superconduttive a temperatura ambiente una resistenza di zero ohm significa nessuna perdita di energia un grande passo avanti è stato fatto nel 1986 quando un team di ricercatori dell'università di houston ha fabbricato un composto ceramico con una temperatura di transizione una temperatura critica di 92 kelvin questo composto ceramico è formato da ittrio bario rame ossigeno ed è curioso notare che a temperatura ambiente un buon isolante invece diventa superconduttore a bassissime temperature una temperatura critica di 92 kelvin cioè meno 181 celsius è un traguardio molto importante perché si trova sotto la temperatura di ebollizione dell'azoto liquido che è meno 196 celsius e l'azoto liquido è un fluido criogenico molto diffuso ed economico sicuramente molto più economico dell'elio liquido poi ancora nel 1993 è stato scoperto un superconduttore con una temperatura critica di circa 134 kelvin la miglior teoria che spiega la superconduttività fu proposta nel 1957 da tre fisici barden cooper e schiffer ed è detta teoria bcs dalle loro iniziali la teoria bcs si basa su un presupposto cruciale cioè che esista una forza attrattiva tra due elettroni all'interno di un reticolo cristallino questa forza dovuta alla trazione di coulomb tra l'elettrone e il reticolo un elettrone nel reticolo causerà un leggero aumento delle cariche positive attorno ad esso e questo aumento di carica positiva a sua volta attirerà un altro elettrone e quindi questi due elettroni rimangono come legati e formano una coppia detta coppia di cooper se l'energia richiesta per legare insieme questi due elettroni è inferiore all'energia delle vibrazioni termiche del reticolo la coppia rimarrà legata quindi per spiegare in modo certo un po' approssimativo la superconduttività possiamo dire che essa richiede basse temperature perché la vibrazione termica deve essere abbastanza piccola da consentire la formazione delle coppie di cooper e in un superconduttore la corrente è costituita da queste coppie piuttosto che da singoli elettroni l'importanza di questo lavoro valse agli autori il premio nobel per la fisica nel 1972 la resistenza zero non è l'unico fenomeno interessante che si verifica quando i materiali raggiungono la loro temperatura di transizione un secondo effetto molto importante è l'effetto mesner l'effetto mesner consiste nell'espulsione del campo magnetico all'interno di un superconduttore in altre parole quando un superconduttore viene immerso in un campo magnetico di intensità inferiore a un certo valore critico esso manifesta un comportamento diamagnetico che vuol dire che respinge il magnete e lo manifesta perché espelle il campo magnetico che cerca di entrare al suo interno ciò può essere spiegato tramite la generazione di correnti superficiali che inducono all'interno del superconduttore un campo magnetico opposto a quello applicato ma questo aspetto lo potremmo capire meglio solo in seguito quando parleremo di magnetismo da un punto di vista matematico alla base dell'effetto mesner ci sono le equazioni di london london è il cognome di due fratelli che hanno studiato questo fenomeno una delle applicazioni più importanti è lo sviluppo dei treni ad alta velocità che levitano su potenti magneti superconduttori e quindi essendo completamente sollevati da terra non fanno nessun attrito con i binari anche questo video è terminato come al solito ti lascio il riquadro a sinistra per esplorare la mia playlist di elettromagnetismo oppure se clicchi sul cerchio a destra puoi visitare il mio canale se ti piace iscriverti ciao arrivederci